Buonasera a tutti e benvenuti al concerto dedicato a San Valentino a cura degli adolescenti della Sina. Presento subito le prime due interprete, Kesha e Viola. Buon ascolto! Oggi vi reciteremo una presa di Casparastampa, una coetesta italiana ma anche portigiana. Dovete sapere che l'è innamorata del suo conte e per amore si suicidò. Dura la stella mia, maggior durezza, è quella del mio conte. Egli mi fugge, inseguo lui, altri per me si istrugge, io non posso mirare altra bellezza. Odio chi m'ama ed amo chi mi stessa. Verso chi mi è umile il mio cor ruge e sono umile con chi mi aspegna e adige. A così strano cibo ho l'arma verza. Egli, onor da cagione, ha nuovo sdegno. Essi mi cerca di andare con forte pace, e lasso questi ed è quell'uno a te. Così nella tua scuola amore si face sempre il contrario di quel che è il mie legno. L'uomo si rispetta e l'ente si compiace. Egli, onor da cagione, ha nuovo sdegno. Egli, onor da cagione, ha nuovo sdegno. Egli, onor da cagione. Egli, onor da cagione. Egli, onor da cagione. Grazie a tutti. 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 a tutti. a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. a tutti. a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. 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 che. a tutti. 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 . a tutti. 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 a tutti.